Benvenuti al ventesimo episodio di Bloodborne Come sempre Sono il gioco del ruoto E siamo arrivati qui Nello scorso episodio E ora dobbiamo solo che andare avanti Ovviamente Si vedete voi Cielo di sangue Ottimo Non ho fatto alcuna modifica nel frattempo Sto sbagliando il pulsante S'ha andato veramente A Bloodborne E poi a New E poi a Bloodborne Oh mio dio E' bruttissimo Fidatevi Non ci trovate Ok Dobbiamo solo Ora andare verso la boss fight Non è difficilissimo arrivarci Però visto che lo dobbiamo fare Nel frattempo Tipo raccogliere un po' di robette Un po' di roba Facciamo le cose con calma ragazzi Attenzione a questi bastardi comunque Danno veleno Rapido e lento Quindi possono fare male Ma male 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 E non sto scherzando Ok Bene Possiamo scendere Però per prima cosa Io farei fuori Il bastardo Là sopra Perché Come vedete Lancia i massi Come ho detto Nel nostro episodio Per chi l'ha visto Quei pochi che l'hanno visto Shotta E ho sbagliato E shotta anche male Se è per questo Quindi Andiamo di sopra Uccidiamolo E mi sbaglio sempre Rannas No ragazzi Giocare veramente A Neo E poi a Bloodborne Non si può fare Non si può fare Fidatevi Sto appena tornando Appunto da Una lunga sessione a Neo E guardate gli effetti Mamma mia Oddio Ok E comunque si Probabilmente porterò Anche un gameplay Sul mio Però A modo mio Perché quel gioco Ragazzi Merita Ma merita Merita tantissimo Uno dei giochi Più belli De quest'anno Secondo me E che sarà Probabilmente Deligrato Da tutti Perché Non è un soul Ma non lo è Manco per niente Un soul E non lo capirà Mai nessuno Probabilmente Questo Ed è un gran peccato Bene Bene Ora incontriremo Non ho Diologia di nemico Lei E Mio Dio Ragazzi Ecco appunto Questo è il tipo Di nemico Che io Detesto A morte Proprio Lo detesto Questo nemico Ragazzi Perché 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 Sciotta Praticamente Non ti dà Scampo Se non Ti sbrighi A ucciderlo Ti sciotta Quella Dannata Follia È Un male Questo gioco È una cosa Impressionante O ti sbrighi A ammazzarla O ti ammazzarei A te Semplice E probabilmente In quel punto Morirò Un paio di volte Ti curo Vabbè Vediamo un attimo Se c'ho Dei sedativi Appunto Per cui Ammetà La follia No Mi sembra Di no Dannazione Vabbè Dobbiamo Accontentarci A quanto pare Torniamo di sopra Abbiamo aperto Lo shortcut Per questo Anche perché Me lo aspettavo Sinceramente Me lo aspettavo Già Conosco bene Sto gioco E sa come frega A me Da parte che Potremmo anche Non farlo Shortcut Però Ma Facciamolo lo stesso Chi se ne frega Ok Qui ci sta Anche una luce Scolina Evitabilissima Tranquilli Non da niente Di buono Anche perché Qua Droll Danno Le drop Abbastanza Misery Almeno per Il livello In cui Siamo Noi No Ho visto Un masto Che arrivava Ah Lo sapevo Mori Mi ha troppato Qualcosa Mi sembra Ni no Ok Via Aspettiamo Che se ne va Il veleno Ok Curiamoci Quella Deve morire Ma morire Ora Ecco Appunto Come vedete La follia È qualcosa Di Inarrestabile Devastante Ok Wow Menomale Che stava Fulvita Perché Toglie Una marea Di Hp Sta cosa È Boh Ma non ci Ma non ci Credo Ma non ci Credo Mai No Ragazzi Queste Cosa Io non Capisco Come fa Ma Bisciotta Non ha Senso E io pure Però ho fatto Lo stupido Perché Volevo andare A aprire Lo shortcut No Ho pure Lo fare Di Idiota Perfetto Bene Va bene così Va bene così Ma porca Trota Io che spero Che spero Non arrivare Il boss A st'episorio Invece Ne sai Manco Oggi Ci arriviamo Comunque Muori Muori Ad esempio Ad esempio No Frammenti Di pietra Normale Ma tipico Dei giochi Dalla From Software Del che Non è un male Assolutamente Ragazzi Però Cioè Dai E quella C'ha di nuovo I miei Echi Grazie Sempre Molto gentile Dannatissima Maledetta Muori Ok Ora non farò Lo stesso errore Di prima Andrò Direttamente A aprire Lo shortcut Ok Allora Scendiamo Qui sotto Tranquilli Non è mortale Già che ci sto Rammetto Il pietra del sangue Per due Ecco Cioè Ragazzi Lo vedete Anche voi Quali sono i troppi Di questa zona È inutile Che ve lo so Dio E abbiamo 103.000 Echi Bene 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 Mica me ne era accorto Olè Non è morto È morto Non sembra Ma aveva preso un attimo Un concolone E detto Ma come è morto Fermi tutti Ma Comunque Ecco lo shortcut Mamma mia Che infarto Andiamo a livellare Già che ci stiamo Va Ci serviranno Un bel po' Di echi Quindi I 103.000 Forse manco Basteranno Forse Forse Ma poi Non fatici caso Io Un matematico Sono una capra Quindi Scialla proprio Conoscenza Del folle Come se fossimo Già Fogli De nostro Ok Lanterna Eccola qua Torniamo al sogno O dovrei dire Incubo Perché ragazzi Mi sembra più L'incubo Bec che un sogno Ma dettagli Su Forza Eccoci qua Parliamo Con la nostra Amica Tra virgolette Molte virgolette E cercano di portare A 18 L'abilità E mandiamo avanti La Forza Perfetto Va bene così Anche se No no Va bene Va bene Non è un problema Vediamo un po' Possiamo rinforzare L'arma No Proprio no Rivadiamolo Rinforzo Gemme del sangue Vediamo un po' Che cosa abbiamo Qui Bene Va bene Eh no Però Mi risulta L'arma Almeno 31,5 Quindi Corcavolo Eh beh Ci sta la cavolata Ci sta la L'inguleta Come si dice No E Niente Ok Ci ho provato Altare nella memoria Bla 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 No Ok Possiamo andare avanti E direi che Andiamo avanti al boss L'episodio può finire qui Senza troppi problemi No Non è qui No è qua Frontiere dell'incubo No no ragazzi Volevo portare 18 L'abilità Quindi Va bene così Non è un problema Bene 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 Ora Uccidiamo di nuovo Lui Non lo so Perché Ragazzi Mi piace uccidere Ve l'ho detto Talmente inutile Sta qua Fermo Le spalle Cioè E' un bersaglio Troppo semplice Su E poi nel prossimo episodio Faremo di nuovo I proscrivoli i video E poi La cara Vecchia K-Nast Bene Grazie Sentivo Freddo In effetti Scendi giù No eh Sta proprio Di birichino Ma Ma serio Ma che S'è andato Fatto No Vabbè Regà No Stai Bisogli Stanno diventando Un altro Fail Dei bisogni Di merda Ma Edizione S'è un po' Distratto Sì Dai Forza Bene Visto che io voglio lasciare le musice originali del gioco Mi metto a fare le musiche con la bocca a caso Tipo I grandi youtuber Cosa Perché non metti musica mentre parli Perché è meglio la musica del gioco Dannazione Ok Anche se in questo caso non c'è musica Ma L'atmosfera L'atmosfera Ragazzi Eh madonnazio Senti Lasciamo verde Andiamo avanti Va Ok Stavo per fare un botto della madonna Carendo di sotto Quindi andando a dover di qua ragazzi Arriveremo Alla boss fight Eccola qua E qui ci attende Amiga Bene ragazzi Grazie per aver visto il video Lasciate un like Un commento Se volete iscrivervi al canale Al vostro giorno Bene è tutto Tei Hollo Grazie a tutti